Continua incessante l'attività della polizia di Stato finalizzata al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio del 14 giugno, la squadra mobile della Questura di Novara, in collaborazione con la sottosezione Polizia Stradale di Novara Est, ha tratto in arresto un cittadino nigeriano di 46 anni per detenzione ai fini di spaccio di Ashish. L'uomo è stato controllato mentre percorreva l'autostrada A4 Torino-Milano. News 24, la tua nuova TV locale.